Nel corso del 2020 saranno 1.416 gli alloggi popolari che il Comune renderà disponibili e che, uniti ai 1.134 di proprietà Aler, porteranno a 2.550 il totale dell'offerta abitativa pubblica a Milano. Questi i numeri indicati dal piano annuale dell'offerta SAP, servizi abitativi pubblici, come approvato dalla Giunta che dovrà poi passare al vaglio del Consiglio Comunale. Dei 2.550 alloggi previsti dal piano annuale, il 20% sarà riservato ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di indigenza, ovvero con ISEE non superiore ai 3.000 euro. Come già deciso, per l'ultimo bando utile, chiuso il 6 dicembre scorso, e un altro 10% sarà invece dedicato ai familiari delle forze dell'ordine. Oltre a queste quote già stabilite per volontà dell'amministrazione, il piano definisce una terza categoria di persone di particolare rilevanza sociale, cui riservare in via prioritaria gli alloggi, ovvero nuclei familiari in uscita da strutture di protezione sociale o da strutture di reclusione. Rispetto agli anni scorsi, la programmazione 2020 evidenzia quindi un notevole incremento della disponibilità di case popolari, frutto degli sforzi messi in atto dall'amministrazione per cercare di rispondere ai bisogni abitativi pubblici, sia attraverso un'accelerazione dei lavori di recupero degli immobili, sia con l'implementazione del personale incaricato dalla verifica delle pratiche.